Dobbiamo pensare che chi viene da noi a fare quel lavoro, a venderci un prodotto, sa come fare quel mestiere, ok? Spesso e volentieri. Quindi che succede? Spesso e volentieri veniamo agganciati o accontentati con degli sconti particolari, con dei prezzi allettanti su prodotti che a noi poi realmente non servono, non che non servino, è normale che non ho pizze con quel prodotto e che lo compro comunque, no, assolutamente, ho pizze con quel prodotto, ma non avendo una statistica, non sapendo quanto ne vendo, che tu a me fai un prezzo molto competitivo su quel prodotto, è totalmente inutile, ok? Mentre invece, su prodotti che io so, da statistica, che vendo particolarmente, cioè io faccio 2.000 capricciose al mese, cioè su 3.500 pizze che faccio faccio 2.000 capricciose, ok? Non devo andare quindi a trattare il pezzo dello spec, che ne faccio 20, no? Devo andare a trattare il fungo, l'uovo, capito? Tutti questi prodotti, perché so che anche se porto lì una piccola marginità in più, guadagno molto di più, perché tutto quello che io dico, ok, adesso su questa pizze sono riuscito a risparmiare 20 centesimi, 20 centesimi per 2.000. Dall'altra parte dico, ho risparmiato, ho risparmiato, farò qui risparmio 40 centesimi, magari per 10, ok? Quindi quello, fondamentalmente quello che conta è quello di dire, va bene, non mi interessa lo sconto su quel prodotto, anzi, mettimelo anche a qualche centesimo in più, non è un problema, ok? Però voglio questo prezzo qui, ok? Su questo prodotto qui, perché so che ne vendo tanto.